Che te ne sembra di questa prima serata di Scoffi? No, molto bello, interessante, ottima spiegazione, tu sei veramente un grande presentatore, veramente, grande, simpatico. Togliamo il posto a Bonolis o a Pippo Baudo? Ma nettamente, guarda, io ti propongo, direttamente su Rai 1, cerchiamo. Che te ne sembra della serata allora? Molto bella la serata, molto divertente, molto istruttiva, veramente molto istruttiva, ho imparato, divertendoci, che bella gente che c'è. Bella gente, come si dice, normalmente, bella gente. Sì, ma veramente bella gente, devo dire. Bella serata, davvero. Tu già hai saggiato il nostro prodotto? Ottimo, ho saggiato il mocaccino, che è una cosa, me ne vado col ricordo del mocaccino stasera, buonissimo. Ma te lo puoi portare a casa comunque, se vuoi. Poi, a proposito, faccio sempre la stessa domanda, conosci qualcuno che beve caffè? Praticamente tutti, forse ho fatica a pensare a chi non beve caffè. E se ti faccio una domanda, qual è meglio, un caffè che non dà niente o un caffè che ti fa star bene e che paga? Ma che dici tu? Qual è meglio? Io direi proprio la numero due. La numero due, grazie Raffaella, un bacione. Grazie Alto, grazie.